Un caro saluto. Prima del video alcune info che reputo importanti. Da oggi aggiungo un'altra regoletta indispensabile per chi ha il vizio di commentare. Se c'è già la stessa domanda con la risposta, il commento viene eliminato. Così come se l'argomento è contemplato nella playlist La storia perduta della terra piana. Se non credete esista la massoneria, attraverso indice alfabetico andate a cercare rituale reale massonico. Fra le varie cose che ho scoperto, ricordate che trovate il link nella descrizione di quanto segue, se andate a leggere la Bibbia di Mattia del 1537 su Samuele 2, capitolo 11, versetto 11, non si legge la sua gente o i suoi servi sono accampati in aperta campagna, ma sopra la terra piana. Poi è arrivata la versione King James, praticamente la Bibbia ufficiale per la lingua inglese, ed è cambiata come i suoi servi erano accampati nei campi aperti. Direte che c'entra. C'entra eccome. Giacomo VI, re di Scozia, era un massone. Mettete in pausa il video e leggete che iniziato 15 aprile 1601 nella loggia Scum e Perth, numero 3, Perth, Scozia. Come vedete, torniamo sempre a cavallo tra il 1500 e il 1600, dove si trovano le modifiche più importanti dei cambiamenti che abbiamo vissuto e dove hanno inventato e rifatto tutta la storia. Per coloro che sono curiosi, curiose, attraverso indice alfabetico, avete a disposizione Storia Rubata. Quello che segue è un estratto del video Jordan Maxwell, Matrix of Power, ovvero i segreti del controllo del mondo. Non si sa come sia morto Jordan Maxwell. Penso che una volta o l'altra tutti ci siamo chiesti se tutto ciò che vediamo nella nostra esperienza, nel nostro mondo, abbia una sorta di piano razionale dietro a questo. Perché ora capiamo che sia il partito repubblicano che quello democratico nel nostro paese sono praticamente gestiti dalle stesse persone, che con gli stessi soldi finanziano entrambe le parti. Ora sappiamo bene, attraverso il lavoro di molti storici, che hanno trascorso la loro vita intera, lavorando alla ricerca per mostrarci che in entrambe le parti del mondo i conflitti sono sempre stati finanziati dalle stesse persone. E come ho detto prima, sembra esserci un metodo per la follia che sta succedendo nel mondo. Sappiamo ovviamente che non possiamo dipendere dai nostri leader. I nostri leader sono fuorvianti. C'è una scienza che stanno seguendo, hanno la loro propria agenda che non vi annovera. I conflitti richiedono denaro e società. I conflitti mondiali richiedono banche mondiali, fondi monetari internazionali. I gruppi professionali hanno ordini fraterni. Dottori, avvocati, eccetera, hanno i loro specifici ordini fraterni. Nel mondo bancario è la stessa cosa in cui hanno un ordine fraterno. Nella politica c'è un ordine fraterno. Tuttavia non dovremmo sapere nulla di questo perché non sono affari nostri. Questi ordini fraterni nella politica nel settore bancario sono noti da molti anni da coloro che sono al loro interno. Sono sempre stati indicati con nomi diversi, in tempi diversi, in paesi diversi. Il nome migliore che possiamo dare a questo ordine fraterno che gestisce la nostra nazione, la politica e il denaro, è la massoneria. Il nostro paese, come tanti altri prima di noi e come altri dopo di noi, è stato fondato infatti dai massoni. La massoneria ha fatto parte in quasi tutti i governi che siano mai stati fondati in questo mondo. Oggi è un'operazione in atto in tutto il mondo. Vogliamo prima stabilire che ciò di cui non stiamo parlando è la massoneria blu o le logge massoniche delle vostre città. Non stiamo parlando dei massoni che vivono dall'altra parte della vostra strada. Stiamo parlando di un'organizzazione fraterna mondiale che è abbastanza potente, abbastanza vecchia e abbastanza saggia da operare dietro tutti i governi del mondo, dietro istituzioni fraterne, sistemi monetari nel mondo e certo sono infatti tutti collegati. Ad esempio, l'idea che il nostro paese sia stato fondato da diversi massoni e rosa crociani, tra gli altri, ci chiediamo perché seguiamo la bandiera americana in un triangolo. Cos'è la piramide, anche se il triangolo ha a che fare con il sistema di governo americano sulla nostra banconota da un dollaro? Se ricordiamo che la nostra Costituzione è stata siglata a Philadelphia, la Pennsylvania è indicata come lo stato chiave di volta. Il motivo per cui la Pennsylvania è lo stato chiave è perché i massoni, che fondarono questo paese, erano membri del rito scozzese e in quel rito scozzese c'è il grado dell'arco reale, il grado dell'arco reale e ovviamente l'arco reale, se non lo sapete, originariamente era perché il sole che arriva sull'orizzonte al mattino formava l'arco reale. Il grado di arco reale dei massoni è stato continuamente ed è sempre attivo in tutto il mondo con i loro sforzi massonici. Gli Stati Uniti, come ho detto, hanno scoperto che nella loro Costituzione a Philadelphia la Pennsylvania è diventata la pietra chiave dell'arco reale. C'è molto quindi che riguarda questo materiale che dobbiamo vedere. Chi sono i massoni? Perché ci sono emblemi e simboli in tutto il mondo, sulle bandiere, negli emblemi e simboli in tutto il mondo, da tutte le parti nei conflitti. Potremmo farci delle domande sulla Croce Rossa, la Croce Rossa internazionale, in quanto organizzazione massonica. C'è sempre, in ogni conflitto, sono in grado di andare dietro le linee nemiche. Perché la Croce Rossa, la Croce Rossa internazionale, è in grado di andare dietro le linee nemiche in tempi di guerra, nei conflitti? C'è un motivo. La Croce Rossa internazionale fuori Londra è collegata con la Croce Rossa americana. arriva dalla Croce Rossa di San Giorgio, la croce sulla bandiera britannica, la Croce Rossa, che è anche un'istituzione massonica. Nella nostra discussione sulle società segrete, la massoneria e gli ordini occulti in generale, vogliamo parlarvi di una che potrebbe esservi familiare o forse ne avete sentito parlare, viene chiamata gli Illuminati. Non intendiamo a spendere troppo tempo sugli Illuminati, quel tanto che basta per familiarizzarvi, se non avete mai sentito parlare dell'organizzazione. Sono stati fondati nel 1776 nel sud della Germania da un uomo di nome Adams Weishaupt. Formulò i suoi piani in relazione alla casa dei Rothschild in Inghilterra, Germania, Francia, Italia. La dinastia bancaria Rothschild, dietro i governi dell'Europa, ha assunto Adam Weishaupt per formulare un piano per il mondo in quel momento, per assolvere determinati obiettivi per chi deteneva il potere. Quel piano è diventato noto come piano degli Illuminati. Ora potete trovare la maggior parte di questo materiale in qualsiasi libreria, nelle enciclopedie, sotto la parola illuminati, che deriva ovviamente dalla parola illuminare, essere illuminati per essere nella luce. Il primo maggio 1776, quando Adam Weishaupt fondò questo ordine, è per questo che ovviamente in Unione Sovietica e in altri paesi comunisti il primo maggio è considerato il giorno importante per tutti i rivoluzionari comunisti. È perché Adam Weishaupt fondò gli Illuminati il primo maggio. Lo troverete, come ho detto, in qualsiasi enciclopedia. L'esca che aveva preparato da Adam Weishaupt per il controllo dei popoli era un progetto molto vecchio e collaudato. Si chiamava democrazia, una democrazia popolare. Adam Weishaupt, come molti prima di lui, aveva capito che la democrazia non ha mai funzionato e non funziona adesso e non funzionerà mai, fondamentalmente a causa del motivo per cui le persone, che potrebbero essere il potere di qualsiasi governo, le persone sono sempre la forza del governo. Pertanto in apparenza la democrazia sembra essere il migliore di tutti i mondi possibili. La democrazia è una pessima forma di governo perché le persone possono essere sviate. Perché democrazia significa, deriva dalla parola demos che significa popolo. Popolo per strada è demos, plebaglia. Democrazia, ocrasi significa regola. Demosocrazia o democrazia significa governo della plebaglia, il governo della plebaglia. Ora se lo mettiamo in termini politici più americanizzati è il governo del popolo. E questo può suonare bene sulla stampa. I fondatori della democrazia nella nostra forma moderna si sono resi conto che le persone possono essere manipolate per far accettare tutto ciò che vogliono in modo che le persone accettino ciò. Andiamo avanti con l'argomento degli illuminati e dei suoi simboli. Troviamo il simbolo di questa società segreta sul retro di una banconota da un dollaro. Sul retro della banconota da un dollaro sul lato sinistro si vede la piramide e all'interno l'occhio onniveggente, l'occhio di Horus, il dio egizio della luce, il dio egizio figlio di Dio. E sotto la piramide si vede 1776 scritto con i numeri romani e le parole anuit copias in alto sopra la piramide. Anuit copias viene tradotto con il significato della nostra impresa. Anuit significa impresa, copias è tradotto con il significato è stato coronato con successo o è stato incoronato dal successo. Quindi anuit copias è la nostra impresa, ora è un successo. Quindi per scoprire quale impresa è stata un successo si trova sotto la piramide Novus Ordo Seclorum, il nuovo ordine del mondo, il nuovo ordine mondiale. Tenete presente anche che quello che paga il governo, quello che il vostro governo paga è quello che ottiene. Se siete pagati per fare qualcosa per il governo loro estraranno esattamente ciò per cui hanno pagato. Quando capiremo questo allora vedremo università e scuole, il governo che finanzia istituzioni educative e vedremo il tipo di studenti e il tipo di istruzione che viene allo scoperto con queste scuole finanziate dal governo. La logica vi dirà che se ciò che uscirà da quelle scuole non era in accordo con ciò che lo Stato e il governo federale volevano, allora cambierebbe. Il risultato è che il governo ottiene ciò che ha ordinato, ottiene quello per cui ha pagato. Non vogliono che i vostri figli siano istruiti, non vogliono che pensiate troppo. È per questo che nel nostro paese, nel nostro mondo, sono stati diffusi in modo massiccio, intrattenimenti, mass media, spettacoli di giochi, programmi televisivi, parchi, divertimento, droghe, alcol e ogni tipo di indottrinamento per tenere le menti umane occupate. Così non intralcerete le persone importanti pensando troppo. È meglio se vi svegliate e capiate che ci sono persone che stanno pilotando le vostre vite e nemmeno lo sapete e tutti i cittadini americani penso abbiano sospettato che stia succedendo qualcosa del genere. Ma siamo troppo impegnati a cercare di rimanere in vita e vivere le nostre vite e dopo tutto cosa può fare una persona al riguardo? Una persona non può fare nulla. Ma una nazione istruita può fare molto.